Cercavano predoni, criminali, dediti a rapine e furti e invece i carabinieri di Bassano hanno trovato un arsenale con fucili ed esplosivo. La Santa Barbara era nascosta in un garage a fiesso d'artico al civico 25. I militari hanno arrestato il proprietario, un insospettabile dirigente di una nota compagnia di spedizioni, Christian Baldan, di 42 anni. Le manette sono scattate anche per un ex della mala del Brenta, Massimo Nalesso. Nel garage avevano nascosto tre Kalashnikov, due revolver, due pistole semiautomatiche, due trappole esplosive per ottenere la deflagrazione di apparati Bancomat. Centinaia di munizioni, anche a carica cava, giubbotti e antiproiettile, una riete artigianale realizzato con un tronco lungo un metro e un diametro di 25 centimetri, nonché una copiosa quantità di chiodi a quattro punte, realizzati artigianalmente per inficiare eventuali inseguimenti delle forze dell'ordine. Tutto materiale utile per far saltare Bancomat, organizzare spaccate ai danni di negozi, a sfondare vetrine di agenzie e uffici e a fuggire nel caso di un inseguimento delle forze dell'ordine. I carabinieri sono arrivati a loro attraverso un'auto rubata, un Audi 6, che le telecamere a fiesso d'artico avevano individuato e segnalato ai militari. Una serie di appostamenti ha consentito poi di individuare il luogo in cui l'automobile era nascosta, probabilmente in attesa di essere usata per qualche colpo. Nell'abitazione di un alesso infine sono state trovate anche sostanze stupefacenti, alcune dosi di eroina, cocaina, marijuana.